Ernesto Tedesco, dopo un silenzio che durava da un po' di tempo, Enel ha parlato, intervenuto riguardo il futuro della centrale di Torre Valdarica Nord e quindi del nostro territorio. Come arriva questa dichiarazione da parte del direttore Tamburi? Beh, io ne ho preso atto leggendola questa mattina su un giornale, su un quotidiano della nostra città e dico, finalmente si parla di Civitavecchia e quindi credo che questo sia un fatto positivo. Anche se, a dire il vero, poi si è fatto riferimento, per quello che interessa poi veramente la nostra città, le prospettive di sviluppo, si è fatto riferimento a quel discorso della logistica che però tra l'altro è stato esposto in maniera non molto chiara, in più di un'occasione anche pubblica. Ma io devo dire che poi in realtà le domande che noi continuiamo a fare e per le quali vorremmo una risposta concreta riguardano l'ambiente, riguardano l'occupazione, riguardano tutti i temi che sono oggetto, tanto più in un momento come questo, di un dibattito che, come dicevo, richiede delle risposte sicure, delle risposte chiare, delle risposte certe. Tanto più, perché siccome poi parliamo anche di ambiente e questo non possiamo assolutamente prescindere da questo elemento che è assolutamente importante in una città che tanto ha dato in 70 anni di servitù per quanto riguarda la produzione soprattutto di energia, tanto più in un momento storico come questo, dove effettivamente il mondo poi è totalmente cambiato in tema di ambiente, laddove si parla di una transizione ecologica, laddove si parla di un ministero che è stato costruito proprio su questo argomento, di un assessorato alla Regione Lazio che è stato costruito su questo argomento e quindi di un meccanismo che dovrebbe vedere Civitavecchia sicuramente come protagonista per quella rinnovazione ambientale, quella nuova prospettiva in termini di rinnovabili, in termini di energie alternative, che evidentemente però non è nelle prospettive di Enel, almeno per quello che risulterebbe dall'articolo e credo che sotto questo profilo c'è bisogno di una maggiore chiarezza, c'è bisogno di una maggiore condivisione, ma questo già avvenuto non è discorso nel tavolo che si è avuto con la Regione e quindi per costruire un percorso con delle proposte concrete e i comitati si stanno attivando molto sotto questo aspetto per andare a ragionare con il Governo e per far sì che Civitavecchia finalmente abbia delle risposte concrete che non siano soltanto un qualcosa che ci passa sulla testa, forse questa logica deve venire un po' meno, dobbiamo immaginare che finalmente le cose vengono condivise con il territorio e anche rispetto a quelle che sono le aspettative del territorio, legittime. Sindaco, lei ha parlato dell'incontro di lunedì, questo articolo, insomma questa dichiarazione da parte di Enel arriva a pochi giorni, qualcuno la vede come una sorta di provocazione anche per vedere un po' quello che succede in città, lei la vede così? Ma guarda, io cerco di essere il più possibile asettico, io sono il sindaco di questa città, il Consiglio Comunale si è espresso in tema di fossili e quindi io sono il garante di quella che è stata l'indicazione del Consiglio Comunale, io non parlo di provocazioni, non voglio entrare nel merito di polemiche, io prendo atto di quello che è il lavoro che stiamo facendo ed è un lavoro che coinvolge i comitati, e lo abbiamo già visto perché ci siamo incontrati e si è parlato di progettualità alternative, che coinvolge i sindacati, che coinvolge la Regione e quest'ultimo tavolo a cui ho fatto riferimento è stato assolutamente importante perché ci offre delle prospettive di condivisione, finalmente. Abbiamo parlato con mezza giunta, mancava l'assessore proprio alla transizione, ma siamo convinti che nella prossima occasione, subito dopo Pasqua, avremo la possibilità di vederci di nuovo, con l'assessore stesso potremmo costruire questo percorso, quindi al di là di quello che possono essere state le intenzioni, ma io, ripeto, ho il garbo di non entrare nel merito, io credo che quello che a noi interessa è far sì che questo territorio venga riqualificato e che, ripeto, non si possa ragionare sul fatto che le decisioni ci passano sopra la testa, come è avvenuto anche in altre occasioni, anche durante il mio mandato, ma si ragioni in maniera complessiva, si immagini quello che può essere il discorso occupazionale, il ritorno occupazionale e imprenditoriale per la città, l'ambiente, e che quello è un discorso assolutamente imprescindibile, su una prospettiva che, lo continuo a dire in maniera assolutamente chiara e trasparente, è una prospettiva che poi viene addirittura dalla Comunità Europea, che ha parlato di transizione, che ha parlato di investimenti concreti in termini di rinnovabili, e credo che se ci debbano essere, ci saranno, sicuramente degli investimenti concreti in termini di rinnovabili, la prima città a dover beneficiare di questi investimenti è Civitavecchia, non può essere altrimenti. Come avverrà, o sentiamo dire che avverrà anche per le altre città, per carità, questo è assolutamente legittimo, ma credo che Civitavecchia, con la sua storia, con i suoi 70 anni di presenza di un'azienda che produce energia, abbia il diritto e il titolo per poter beneficiare di quello che l'Europa dice, e lo dice dalla fine dell'anno scorso. Quindi tutti i ragionamenti pregressi, Pniec e compagnia bella, per carità, uno ne prende atto, ma credo che siano abbastanza superati da quella che è la prospettiva che oggi viene offerta sul mercato, e credo che sia questo il canale che dobbiamo in qualche modo seguire.